La soddisfazione che sicuramente deve essere una spinta in più per noi per cercare sempre di migliorare. Sono molto contento per i ragazzi perché meritavano questo successo, questa prestazione, non dimenticando che non abbiamo fatto ancora niente perché la qualificazione deve essere ancora raggiunta. E' stato fatto sicuramente un passo molto significativo quando magari c'era più di qualcuno che dubitava sul nostro cammino in Champions. Penso che mi hanno dato delle risposte importanti anche domani, però è importante che le risposte le diamo sempre a noi e continuare sempre su questa strada.